La Commissione europea ha avviato una consultazione di 6 settimane con le parti sociali per valutare l'opportunità di varare una legge che tuteli i diritti dei lavoratori della cosiddetta gig economy. In Europa sono 24 milioni le persone che hanno lavorato almeno una volta per le piattaforme online, il cui utilizzo è cresciuto ulteriormente durante la pandemia. Per 3 milioni di lavoratori si tratta della fonte di reddito principale. La pressione di sindacati e lavoratori ha spinto Bruxelles ad avviare la consultazione. L'economia delle piattaforme online è una realtà che non sparirà. Nuove tecnologie, nuove fonti di conoscenza, nuove forme di lavoro modelleranno il mondo nei prossimi anni e per quante opportunità possa offrire i diritti acquisiti dai lavoratori non devono venire meno. Che si tratti di lavori online o offline, tutte le persone dovrebbero essere protette e gli dovrebbe essere permesso di lavorare in sicurezza e con dignità. Una decina di giorni fa Uber ha presentato un documento in cui chiede ai regolatori europei l'introduzione di nuovi standard per i lavoratori delle piattaforme online in Europa. Crediamo che sia possibile un nuovo approccio in cui l'accesso alle protezioni e benefici non vada a scapito della flessibilità e della creazione di posti di lavoro, si legge nel documento. Abbiamo bisogno di leggi chiare e progressive che riconoscano il valore di questo tipo unico di lavoro indipendente e ci aiutino a proteggerlo meglio. Stando all'azienda nel 2020 in tutta Europa, sono 600.000 gli autisti e i corrieri che hanno lavorato per Uber. Nel triennio 2018-2020 i lavoratori della piattaforma hanno guadagnato più di 12 miliardi di euro, mance e escluse. Al termine della consultazione Bruxelles esaminerà il contenuto di una possibile legge entro la fine dell'anno, a meno che sindacati e imprese non decidano di negoziare la questione in autonomia. Grazie. Grazie. Grazie.